Il mercato di Vila San Giovanni, stiamo andando a evangelizzare nel nome meraviglioso di Gesù Cristo. Alleluia, gloria al Dio, alleluia. Vi dà da fare l'opera del Signore, il mercato, dobbiamo programmare l'Evangelio, alleluia, che Gesù la salvezza, gloria al Signore, alleluia. Pregate per noi, i cari e i fratelli, i sorelli, gloria a Gesù. Shalom Adonai, shalom, shalom, alleluia, gloria al Signore, Gesù Cristo, alleluia. Guarda com'è bella la benedizione del Signore, gloria, gloria a Dio, bellissima. Per la fede una volta insegnata ai seguaci del Santo Evangelio. Siamo in alto strada, gloria a Dio, gloria. Guarda che maraviglia, gloria. Alleluia, voglio andare di valore in valore. Monti para... Siamo entrando no Túnio, embaixo da terra, alleluia. Alleluia. Olha, embaixo da terra, siamo entrando agora no Túnio, alleluia. Oh, gloria. Dentro da montanha, o fone. Gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio. Voglio andare di valore in valore. Bellissimo, Túnio, ma, ancora, che maraviglia. Vino al fine seguire il Signore Gesù. Alleluia, illumina la città di Reggio per la Tua gloria. Alleluia, Signore, illumina questa città. Spezza le catene, Signore, illumina i cuori. Alleluia. Distruggi le opere del diavolo, della magia, della stregoneria. Distruggile. Nome di Gesù Cristo. Salva i perduti, salva gli idolatri, salva i peccatori, Padre. Oh, remandarash, ok, remandere, keriassou. Benedicile, tue serve, alleluia, che sono qui, Padre Celeste, alla gloria di Gesù Cristo, benedetto in eterno. Amen, amen, amen.